Neima essa presto fuori con casa, in tanti si chiedono se è il singolo estratto diciamo da quello che è il video famoso di cui si sta tanto parlando, denunciato Neima essa, mi dispiace quando un ragazzo giovane viene denunciato, però ragazzi ci rendiamo conto della situazione. Questi qua in una situazione come quella che stiamo vivendo, senza fare moralismi perché io sono il primo che fa come il cazzo gli pare, esce senza mascherine e luoghi aperti e tutte le cose, non seguite il mio esempio, insomma devo fare un minimo di moralismo, però senza moralità, però durante quello che stiamo facendo tu che fai? Convochi 300 ragazzi per girare un video e poi giustamente arrivano i carabinieri, ovviamente, ragioniamo a livello inconscio, loro volevano che accadesse questo. Ora, il discorso è semplice, se tu sei nessuno e fai il Jordan Jeffrey che sale sopra le macchine, la pulizia e cosa, io lo posso pure capire perché dicevo non sono nessuno, non valgo un cazzo, con sta roba qualcuno mi si incula, ok? E poi magari perdi pure di spontaneità e quindi smettono di inculartisi quando finisce il fatto. Ma se tu comunque hai già i dischi d'oro perché fai le collaborazioni, siete dieci, avete un seguito a livello di click allucinante, siete infottati come non mai, i ragazzini vi seguono. Perché fomentare una sommossa? Che poi c'è la baby gang, adesso se vengono i carabinieri nessuno scappa, poi è il primo che si è dato a gambe. E poi dice no ma perché non è furbo chi si fa prendere ma chi scappa, è giusto, ovviamente sì, devi scappare quando vengono i guardi, ma perché gli altri devono restare e tu te ne vai. Questo è il discorso. Allora ragazzi arrivano i sbirini, namo, questa era la logica, nulla contro baby gang, ne ho parlato bene recentemente, però sanno a fare i ragazzini che non sanno neanche loro bene che cosa vogliono fare. Questo è il discorso perché un conto che tu magari fai, mi rompe il cazzo il fatto che tu riesci a prendere 300 ragazzi e portarli lì per girare un video che inizia e finisce là, arrivano gli sbiri tu che fai, dov'è l'ideale? Dov'è l'idealismo? Cioè perché cazzo non raduniamo 300 giovani ragazzi e creiamo una cosa per delle vere motivazioni, per combattere determinate cose? Nessun ragazzo, giovane, universitario è sceso in piazza per combattere il fatto che gli hanno tolto tutti i diritti, questo stato di merda. E' da un anno che siamo chiusi, ma mica si fa una protesta perché siamo chiusi, perché lo stato ha affrontato male la pandemia, no, si fa la protesta senza senso, si tirano sassi ai carabinieri e poi che succede? E' giustamente che viene denunciato e devi passare un bel po' di casini inutili, senza senso, ovviamente. Quindi di conseguenza mi dispiace per sta situazione, che uno non se l'aspetta, però la verità è che si è creato un casino per nulla. Cioè tutta sta storia va a finire che uno deve pure pensare va a sti quattro deficienti, quando invece hanno il potenziale per fare una guerra a sti ragazzi, giovani, forti, infottati, pieni di ragazzini che li seguono. E invece no, come al solito andiamo a buttare tutto. Adesso uscirà a casa, avrà un fare mediatico dietro pazzesco, sicuramente andrà forte. Io gli auguro di fare un platino, ma a che prezzo, vista la situazione che si è creata, vista che poi devi affrontare un processo penale, al di là del livello economico, magari ti danno pure un tot di anni da scontare, che non li sconti perché vai sotto magari 8 anni, però al prossimo reato che fai magari pure per sbaglio perché sei giovane e stupido, e magari ti ritrovi a dove scontare veramente perché Baby Gang dice per esempio il carcere, le cose, ma sei sempre fatto pene piccole, in una fascia d'età, per carità, anche un giorno di galera è troppo. Però voglio vedere se fai le stronzate che ti fai 15 anni, se poi parli ancora così del carcere, se poi ti cambia la testa. Ecco, sti ragazzi purtroppo in testa hanno la segatura vera, non c'è altro da dire al riguardo purtroppo, perché non hanno vissuto la realtà di detenzione a lungo termine, che se Baby Gang si facesse 10 anni non farebbe il coglione così, capirebbe che non si scherza con la libertà. Soprattutto adesso, ci avete tutto, ci avete i soldi, ci avete il successo, ci avete veramente una bella situazione, godetevela cazzo, non fate i coglioni. E non vi giocate la credibilità, perché sta azione un pochino te la fa giocare, magari non hai fan stupidi di 12 anni, però dai 16 in su forse dici ma che cazzo è stata a combina, raga, questo è. Comunque vedremo il brano, se spaccherà, io gli auguro di sì, perché comunque, come ho detto, il prezzo è alto da pagare per la promozione. Il video sarà tratto da sta roba qua? Chissà, io credo di sì in ogni caso. Vapò, che dobbiamo fare? Eh, son ragazzi, son ragazzi.